Il 2 dicembre 2012 siamo a Largo Arso 14 e dove voi vedete questa parte è una parte dove mi hanno chiamato che si allaga allora siccome che mi sto occupando anche di altre parti della zona dove si allaga e sto preparando una lettera allora stiamo riprendendo praticamente i vari problemi che ci sono in questa strada che è Portici ed è via Largo Arso 14 allora come si può vedere dalle immagini stiamo riprendendo i vari problemi che ci sono questa è l'entrata di via Largo Arso e qua praticamente con le pioggi forti si allaga tutto qua ci sono le caditoie qui c'è una busta guardate sempre l'incivittà delle persone come si può guardare e stiamo ancora praticamente continuando a riprendere in questa zona ripeto stiamo qua a via Largo Arso 14 e stiamo riprendendo un poco questa zona anche con una carenza anche di spazzamento questa è Portici ripeto allora come si può vedere c'è di tutto c'è di tutto addirittura qua ripeto le bottighe come si vede una busta quindi ripeto questa è una zona praticamente che fu già riqualificata per fare l'asfalto le battaglie che ho fatto anche io qua e quindi adesso si deve risolvere il problema dell'allagamento che succede qua ripeto 2 dicembre 2012 ci troviamo a via Largo Arso e domani partirà tutto per per iscritto protocollato con questo ho finito grazie a tutti quelli che hanno fiducia in me io continuo sempre a fare il mio dovere da componente di IDV e lavoro per la città grazie a tutti